La prima vacanza all'estero con il nostro piccolo Nicolas l'abbiamo trascorsa in Carinzia, ospiti del Kinderhotel Fernsehoff a Feldheimsee, sulle rive del lago Feldsee. Un hotel pensato appositamente per le famiglie con bambini, ma anche per gli amanti dello sport. La struttura mette a disposizione dei suoi ospiti una spiaggia privata attrezzata, piscine interne ed esterne, campi da tennis, cacuzzi, area wellness, nonché tante aree interne in cui divertirsi e rilassarsi, a tutte le età. Sono tante poi le escursioni da fare nei dintorni, come la passeggiata lungo il Felzy, il castello di Lonskron con i suoi rapaci e il monte delle scimmie, il lago Ossiak, Filak, ma anche il Fagersee, la vicinissima Bad Kleinkirkheim e il Mischtertersee. Una vacanza da queste parti è perfetta per immergersi nella natura, sentire la pace e l'energia che nasci dal contatto con la stessa e condividere l'esperienza con tutta la famiglia.